Vice sindaca, quest'area cosiddetta Central Park comincia a vedere una nuova vita? Oggi facciamo il punto nave della situazione con sistemi urbani perché appunto il tempo sta passando dal primo protocollo d'intesa tra il Comune di Verona e i sistemi urbani sono passati quattro anni l'esigenza è quella di proseguire su due linee di attività parallele, da un lato la pianificazione urbanistica dell'ampio brano di città individuato appunto nello scalo ferroviario di Verona Porta Nuova e dall'altro la possibilità di un riutilizzo temporaneo degli edifici esistenti è una superficie piuttosto ampia quella di edifici esistenti e di superfici pavimentate che la legge regionale 14 del 2017 consente di riutilizzare temporaneamente con funzioni di tipo culturale, artistico, artigianale con la possibilità di insediare sempre temporaneamente pubblici esercizi e attività commerciali di vario tipo e quindi cerchiamo appunto di individuare un'intesa con sistemi urbani per procedere in questo senso. Ci sono già manifestazioni di interesse per questo ambiente? No, diciamo che il percorso che abbiamo individuato, ideato è quello per cui sarà Sistemi Urbani che avvierà appunto una manifestazione di interesse da parte di operatori che hanno così il desiderio di investire in questo riutilizzo temporaneo.